no 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 no, tu ti sincronizzati però tu non devi parlare, se no te ammazzi, fai così Allora, ok, ok, io quando faccio così dobbiamo inspirare, se lo rifaccio dobbiamo espirare e se non lo faccio lo detratteremo il respiro, ok? Molto bello. Ci sei Claudio? Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sei in tutt'uno con la luce, sembri Drake bianco, se capri la barba e sembri? Sei in tutt'uno con la barba e sembri che non ci sei, sembri del lavoro perché non vorrei che magari stiamo facendo qualcosa di virtù Grazie a tutti, 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 a tutti. Grazie a tutti.